Sta per uscire il nuovo FIFA, è qualcosa di incredibile, sono emozionatissimo, non vedo l'ora che arrivi il giorno X e ci saranno un sacco di cose nuove, ci saranno le nuove skill. Certo che se ci fossero dentro i due bomber a fare le skill sarebbe una cosa fantastica, sarebbe tutto un altro mondo. Ciao amici, noi siamo i due bomber del freestyle, bomberissimi, nuovo video quest'oggi sulle skill possibili di FIFA 18, 30.000 mi piace, link dei social in descrizione e da pigno, sei pronto a entrare nel gioco? Vabbè io nel dubbio, da fè. E io entro. Di Bolo E la madoba che roba oh No questa è veramente fuori di testa, non si può fare no? Ma che cazzo fai a farlo? Cioè, le mani sono due oh E io entro. E io entro. E io entro. E io entro. Grazie a tutti Grazie a tutti